Siamo qui a Mido alla presenza di Brunello Cucinelli. La sua prima volta a Mido, qualche impressione? È la prima volta ma io la trovo bellissima. Io sono stato sempre anche un amante delle fiere da ragazzo, che è un po' come il nostro Pitti, no? Tu vieni a Pitti, 30.000 persone, un defile all'aperto, tutti i showroom sono aperti e così qui guarda come siamo vestiti, c'è proprio un grande tema culturale, umano, si respira, quindi una bellissima atmosfera. Poi in questo stand di tutti questi miei amici, nonché i produttori di questi meravigliosi occhiali, è proprio bella. Poi adesso un ragazzo lì mi ha fatto vedere una cosa molto particolare, degli occhiali che tu indossi in un momento dove magari c'è molto rumore e ti alleggeriscono di quel rumore, quindi ti riportano ad ascoltare anche il valore del silenzio. Bellissimo. Sì, un'atmosfera bellissima, molto interessante. Grazie. Ho detto che potrei farti il testimonia, chiaramente e gratuitamente, per questo tipo di occhiale che ti fa sentire meglio, ma ti può anche riportare un po' di serenità. Allora, grazie per il suo tempo e buon mido. Grazie a voi, grazie.